Era cominciata così, guarda guarda chi c'è qui, i Magnifici Quattro, nessuno si può fregare, e dopo qualche primavera, ho una cosa importante da dire, cuore o cancro, mi sto per sposare, Robert De Niro, Kevin Klein, Morgan Freeman, sono a raduno parrocchiale, Michael Douglas, i Magnifici Quattro sono tornati, Las Vegas, venerdì alle 21, sul 20. In a club